Gli attivisti del centro sociale Morion stamane hanno simbolicamente occupato e chiuso il pontile di Palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto, in segno di protesta per la visita a Venezia del ministro dell'interno Matteo Salvini. Mentre il ministro è chiuso all'interno di una zona rossa blindata, viene spiegato in una nota, gli attivisti rivendicano il diritto a una città aperta alle politiche di accoglienza e chiusa al razzismo e alle polemiche infami fatte sulla pelle delle persone lasciate a morire in mare. Dalla mattina a presto un dispiegamento notevole di polizia di stato e locale, Carabinieri e Digos ha circondato la chiesa e la scuola grande di San Rocco per l'incontro tra Salvini e il governatore Luca Zaia per la firma sulla pedemontana previsto in mattinata.